Buongiorno, sono Silvia Klingendrath, sono appassionata di storia locale di Trieste e in questa puntata vi parleremo delle fontane ubicate in piazza del Perugino. Oggi ci troviamo nella piazza Perugino dove possiamo vedere, perché resistono ancora al tempo, quattro fontanelle. Molto ma molto tempo fa erano dei fanali a gas, fatte a stelo in ghisa, che è un materiale molto resistente all'usura e la città dopo i primi esperimenti concordati con una ditta francese, quindi parliamo del 1848, è attesa ancora vent'anni per avere un sistema di illuminazione stradale. Nello stesso tempo nasce la costruzione a Trieste definita usina di gas. L'addetto ha questa funzione di dare l'illuminazione alla piazza e viene ricordato come in pizza ferrai con una scaletta per l'accensione, poiché doveva accedere alla cima di questo lungo stelo e era spesso, allegramente lo ricordiamo, circondato da dei bambini che cantavano accanto a lui mentre lui seguiva il suo lavoro. Se vi è piaciuto questo video condividetelo, iscrivetevi al canale e mettete un like. Un saluto affettuoso da Silvia Klingendrath e Trieste Bella